Da Palermitano che idea ti sei fatto sulla vicenda Miccoli? Io conosco Fabrizio come calciatore e lo giudico per quello che ho visto in campo e che continuo a vedere. Lui è un giocatore che fa divertire, quindi lo stimo. E non conoscendolo come ragazzo, onestamente, io gli auguro il meglio. Poi le vicende private è giusto non entrare perché sono molto delicate in alcuni casi. Sto vicino a Miccoli perché lo stimo come giocatore e spero che possa fare ancora parecchi anni perché nel calcio italiano ancora serve uno come lui. Poi dispiace per un collega quando si vengono a sapere certe cose, non so se sono fondato o infondate, però dispiace anche se non mi conosce intimamente, però gli sto vicino. Parliamo di mercato, parliamo di te, soprattutto del tuo futuro. Spinelli pare ti abbia chiamato. Cosa rispondi? Io ho avuto il piacere di incontrare uno dei dirigenti del Livorno. Ho espresso, facendo una chiacchierata molto tranquilla, però ho espresso la volontà e la voglia ancora di fare tanto in Serie A, di dare tanto perché ho ancora l'età e ancora il fisico per poterlo fare. Quindi ho espresso solamente la voglia e la passione, perché no, di approdare il Livorno, perché credo che sia una piazza molto interessante e con tanta passione. Quindi è quello che mi serve e quello che cerco. Poi, ripeto, non dipende solamente da me. Ringrazio il presidente Spinelli perché magari anche se ha parlato di me, anche con una frase, però significa che c'è un attestato di stima e quindi mi fa il piacere. Parliamo della Juventus, ha preso Tevez, adesso è diventata ancora più imbattibile di prima. Secondo me sì, secondo me è una grande squadra e sono contento che arrivi un giocatore come Tevez perché un po' di qualità nel campione italiano fa sempre bene. E quindi un giocatore del suo calibro è veramente una bellissima notizia. In questo caso, secondo me, la Juventus è ancora oggi la squadra da battere e sarà molto dura per le squadre che vogliono vincere a Sudeta. L'ultima, Tevez, arriva Tevez, però potrebbe andare via Cavani. E' un altro grande giocatore che va via, anche se Napoli è una grandissima piazza secondo me, quindi gli faccio che possa scegliere il meglio. Credo che in Italia, comunque, Napoli sia una delle prime piazze. Tu ci potevi andare a Napoli? Sì, ci potevano andare quando c'era l'era Donadoni, poi non si è fatto più niente, ma non perché io abbia, come si dice in giro, che abbia deciso di non andare, ma perché c'era la vicenda della Juve, quindi si è un po' temporeggiata e poi hanno fatto altre scelte. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie a te.